buongiorno a tutti oggi vorrei introdurvi in un periodo storico piuttosto complesso e piuttosto contorto cerco di spiegarlo nel modo più lineare e accattivante possibile nel limite del possibile ovviamente cioè vedremo quello che accade in italia dopo la pace di lodi pace di lodi venne siglata nel 1454 fu una pace quanto mai benedetta perché mise fine a decenni e decenni di scontri intestini tra i vari stati italiani dal 54 in poi in italia si instaurò tutto sommato un periodo armonico da un punto di vista politico di pace per circa 50 anni 40 50 anni periodo di pace che venne turbato solo in tre occasioni fondamentalmente tre guerre o tre episodi bellici che scoppiarono dopo la sottoscrizione della pace di lodi che furono i seguenti andiamo in ordine cronologico nel 1480 per la prima volta i turchi misero piede in italia più precisamente a dotranto eccolo qui sulle coste della puglia e vi ricordate che i turchi avevano espugnato costantinopoli con maometto secondo nel 1453 ma momento secondo il conquistatore certo non si fermò lì anzi proseguì verso i balcani scontrandosi con i popoli slavi da un lato ma anche con venezia e comincia per venezia un periodo terribile pensate che complessivamente tra venezia e turchi scopriranno ben sette guerre facendo i calcoli venezia si trovò in guerra contro i turchi un anno ogni cinque cioè dire che sostanzialmente era sempre un clima bellico o quantomeno o quantomeno di tensione momento secondo dopo la conquista di costantinopoli avanza nei balcani sconfigge venezia in una prima guerra veneto turca ce ne saranno sette ripeto venezia fungerà sempre da grande argine rispetto all'impero ottomano da baluardo della cristianità però non riuscirà mai a respingere l'impero ottomano c'è una sproporzione troppo evidente di uomini di mezzi di estensione territoriale e i turchi in questa loro avanzata trionfale era inevitabile nel 1480 dovevano giungere anche in italia per cui dalla zona balcanica che era questa sconfissero venezia presero possesso di alcuni porti in albania e in montenegro e da quei porti adriatici era gioco forza attraversare l'adriatico e giungere fino in italia 1480 assedio di otranto per l'italia fu uno shock si temeva realmente che i turchi in questa loro avanzata trionfale apparentemente inarrestabile fossero destinati a conquistare tutta l'italia pensate che addirittura il papa pensò a un certo punto di ritrasferire la sede ad avignone come tempi della vecchia cattività del quattordicesimo secolo tanto era lo spauracchio che che seguiva che che seguiva l'esercito turco nella sua espansione giungono nel 1480 ad otranto i turchi e come vi dicevo scoppia il terrore vedete quello che ancora diceva macchiavelli pochi decenni dopo perché la paura dei turchi si proiettò nei decenni per diverso tempo ecco macchiavelli nella mandragola siamo all'inizio del primo ventennio del 1500 restituisce in quella sua commedia un sentore popolare molto diffuso di vera e propria paura nei confronti dei turchi a un certo punto c'è una donna nella mandragola che dice questo no lo vedete nella slide credete voi che il turco passi scusate che il turco passi questo anni in italia con queste diavolerie io ho una gran paura di quello impalare erano fondamentalmente delle voci da bar quelle che si restituisce macchiavelli ma che ci dicono che cosa che in italia si diffuse un gran terrore dei turchi e soprattutto di una loro usanza piuttosto macabra e cioè l'impalamento su cui dettagli rimando ad altre fonti giungono nel 1480 ad otranto e dopo pochi giorni espugnano la città fu un massacro un vero e proprio bagno di sangue e moltissimi otrantini si rifugiarono nella chiesa donne e bambini vennero uccisi e nella stessa chiesa di otranto ancora oggi si può si può vedere vedete forse un po macabro ma si può vedere i si possono vedere i resti o meglio le reliquie dei martiri di otranto quegli 800 martiri beatificati nel 1700 e canonizzati cioè santificati da papa francesco 800 martiri che rifiutarono di arrendersi agli ottomani e rifiutarono di abbiurare la fede e vennero e vennero ammazzati vennero poi raccolte le ossa e radunate ed esposte nella cattedrale di otranto ecco quello fu un primo episodio estremamente allarmante i turchi erano in procinto così sembrava di invadere l'italia e anche estremamente destabilizzante per la pace che si era sottoscritta a lodi c'è fu poi un secondo elemento che turbò la pace che è legato alla città di venezia ovvero una guerra che scoppia tra venezia e tutti gli altri stati italiani la cosiddetta guerra del sale o guerra di ferrara dal 1482 al 1484 cosa accadde molto velocemente che venezia entra in rotta di collisione con ferrara ferrara formalmente era un una città papalina del papa però tributaria di venezia cioè doveva pagare il dazio a venezia sui commerci ferrara ne approfitta sa che venezia in difficoltà perché era in lotta contro i turchi appunto quella prima guerra veneto turca di cui vi parlavo per cui comincia a fare un po la furba non pagare o a pagare sempre meno venezia vuole imporsi scoppia una guerra tra venezia e ferrara e con ferrara si alleano subito tutti gli stati italiani per cui men che non si dica lo stato della chiesa il regno di napoli gran ducato di toscana e il ducato di milano si trovano alleati contro venezia che del resto era lo stato più forte in quel momento per cui la lega italica prevedeva una coalizione nei confronti di quelle città che non avessero rispettato i patti stabiliti a lodi dura due anni questa guerra si sto quarto in questa guerra scaglia anche l'interdetto sulla città di venezia poi verrà revocato alla fine e si torna al tavolo della pace naturalmente e venezia riesce a ottenere poco poco rispetto al allo sforzo profuso ovvero la città di rovigo e il polesine lo vedete qui no rovigo eccolo qua rovigo e il polesine entrano a far parte dei domini della serenissima e quindi del veneto a partire da questo definitivamente c'era già stato un piccolo antefatto prima ma definitivamente a partire da questa guerra qui nel 1482 84 la pace di lodi venne scalfita ma non venne destabilizzata perché tornati alla pace e con venezia l'intera penisola italica poter ritrovare una propria armonia terzo episodio che rischiò di far crollare l'assetto di lodi avvenne invece a napoli parliamo ecco qua parliamo della cosiddetta rivolta dei baroni i baroni erano i grandi feudatari cioè i grandi nobili del regno del regno napoletano che si equalizzarono contro i nuovi signori che erano gli aragonesi dal 1442 gli aragonesi di alfonso quinto avevano scalzato gli angioini a napoli per cui da circa 40 anni ai francesi si erano sostituiti gli spagnoli ecco i baroni cioè i grandi feudatari si ribellarono agli aragonesi invocando un ritorno dell'angioino sotto il quale e vi erano migliori condizioni economiche di vita se secondo la loro prospettiva cioè secondo la prospettiva dei baroni anche qui siamo nel 1485 quando scoppia questa rivolta anche qui si riesce a tamponare questa potenziale polveriera grazie soprattutto all'intervento di uno dei più fini uomini politici di quel momento che era lorenzo dei medici per cui anche questa rivolta alla fine fallisce almeno dalla prospettiva dei baroni e si torna a consolidare l'ordine costituito ecco per cui questi furono i tre episodi che minarono la pace in italia i turchi ad otranto venezia contro ferrara e di conseguenza venezia contro la coalizione degli altri stati e la ribellione interna a napoli se data anche grazie all'intervento politico di lorenzo dei medici lorenzo il magnifico a un certo punto però le cose cambiano e cioè muore lorenzo il magnifico 1492 lorenzo magnifico era stato il più fine il più abile architetto della pace di lodi cioè il vero protagonista italiano nei 20 25 anni precedenti è un uomo dotato di una cume straordinario di un'intelligenza al di sopra della media consigliere di molti sovrani europei e grande uomo di stato ecco era considerato lago della bilancia di quel delicatissimo equilibrio che era stato definito a lodi ed effettivamente mentre era in vita lorenzo il magnifico riuscì pur con le sue difficoltà a conservare intatto quel quell'assetto morì nel 1492 la sua morte e marca proprio un punto di svolta e con la sua morte per una serie di fattori cambia un'epoca fondamentalmente tra l'altro 1492 è anche fatalità è una coincidenza l'anno in cui viene scoperta l'america che insieme alla caduta di costantinopoli viene indicata dagli storici come la svolta dall'età medievale all'età moderna in quello stesso anno nel 1492 anche qui fatalità sempre a marcare questa svolta venne eletto un nuovo papa uno dei più controversi della storia della chiesa anzi forse direi il più controverso ovvero alessandro sesto il famoso rodrigo borgia al mondo rodrigo borgia che era questo rodrigo borgia era uno spagnolo nasce a valencia diventa cardinale cardinale rodrigo borgia e divenne noto per le sue tendenze nicolaite cioè era un cardinale nicolaita cioè un cardinale che non tenne per nulla fede al proprio voto di castità cosiddetto celibato ecclesiastico e che usava avere delle delle amanti ecco una in particolare questa era una donna lombarda si chiamava vanozza cattanei gli diede quattro figli quindi un cardinale con quattro figli d'accordo nicolaita e il primo genito era cesare chiamato anche duca valentino su cui torneremo un'altra figlia era la famosa lucretta grazia borgia ecco il buon rodrigo borgia probabilmente sarebbe passato la storia come un cardina come diciamo un semplice cardinale nicolaita ce n'erano anche altri oltre lui ce n'erano anche tanti altri di santi per carità però in quel periodo il nicolaismo fu e non solo fu un problema per la chiesa se non che rodrigo borgia venne eletto papa e salì al soglio pontificio con il nome di alessandro sesto correva l'anno ripeto 1492 la sua elezione lui aveva 61 anni nel momento della 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 sua elezione a pontefice sua elezione venne subito contestata borgia aveva sicuramente grandi capacità politiche e quella era una qualità imprescindibile per un papa il papa era anche un uomo di governo non solo un uomo di fede però il borgia era anche noto per la super per la dissolutezza dei suoi costumi ed era una dissolutezza che oltrepassava anche quel limite consentito nella cultura del rinascimento che già che già aveva subito qualche cedimento etico rispetto ai precedenti secoli medievali per cui sicuramente un uomo che da un punto di vista della coerenza dell'etica della fede restava moltissime perplessità ciò non di meno venne eletto pontefice con il nome di alessandro sesto diventato pontefice e tra le varie cose comincia a progettare di costituire uno stato in italia centrale diciamo in emilia romagna d'accordo da queste parti qui uno stato che avrebbe dovuto da un lato arginare la tendenza espansionistica di venezia ma dall'altro lato quello era uno stato che poi sarebbe stato come dire donato elargito al proprio figlio del figlio primogenito cesare detto anche duca valentino quindi era un papa che aveva dei figli è successo anche questo e alessandro sesto ambiva ripeto costituire questo stato per farne un possesso ereditario di famiglia della famiglia borgia ad attribuire al proprio figlio cesare che poi l'avrebbe tramandato ai suoi figli e così via e ovviamente queste mire in italia centrale non potevano che destabilizzare ancora una volta quel precario equilibrio scaturito dalla pace di lodi perché una delle clausole era quella appunto per la quale qualsiasi tentativo di alterare i confini definiti a lodi sarebbe stato contrastato dalle altre quattro nazioni stati qualizzati e per cui questa azione energica del papa in italia centrale non fece altro che gettare benzina sul fuoco alessandro sesto lo ricordiamo anche per alcuni aspetti positivi però bisogna rendergli atto almeno di questo e cioè che fu un grande mecenate e colui che contribuì a fare di roma uno dei massimi centri culturali del mondo uno dei dei polmoni pulsanti o dei cuori pulsanti del rinascimento invidiato in tutto il mondo infatti ecco ma questo era il borgia infatti sotto il suo pontificato giusto per citare qualcosa venne commissionata la pietà a michelangelo e vennero anche commissionate le decorazioni del cosiddetto appartamento borgia del palazzo apostolico a roma al pinturicchio due nomi straordinari che hanno segnato in maniera indelebile il rinascimento romano michelangelo e il pinturicchio ecco tra i vari tra i vari mecenati che li assoldarono ci fu anche soprattutto il borgia alessandro sesto e alessandro sesto fu anche il primo ad introdurre un orto botanico a roma che poi fece scuola per diversi motivi bene detto questo ci furono altri motivi di come dire di destabilizzanti dopo la morte di lorenzo il magnifico si viene a perdere un grande uomo grande politico lorenzo il magnifico salì al soglio pontificio alessandro sesto con le sue mire nel nord nel centro italia ma ci fu un altro problema che emerse a milano nel ducato di milano nel ducato di milano negli ultimi decenni del 1400 qui glisso un po sulle date se no discorso diventa pesante e salì al potere come come duca di milano gian galeazzo sforza il problema di gian galeazzo sforza è che era solo un bambino e per cui aveva bisogno di un tutore suo zio ludovico il moro era un politico di primo livello era diciamo un secondo lorenzo il magnifico quando lorenzo il magnifico morì il punto di riferimento politico il nuovo ago della bilancia divenne ludovico il moro politicamente brillante così brillante e così spregiudicato da non voler lasciarsi sfuggire l'occasione e cioè suo nipote gian galeazzo bambino era diventato duca di milano non poteva governare perché era ancora un bambino e gli ludovico il moro ne nivenne il tutore e già progettava il modo di scalzarlo dal trono evidentemente se non che raggiunta la maggiore età gian galeazzo sforza rompe le uova nel paniera ludovico il moro perché si sposa con una nipote del re di napoli e questo era un bel problema perché quel matrimonio legava dinasticamente il regno di napoli con il ducato di milano per cui il re di napoli ferrante si chiamava in quel momento fa capire a ludovico il moro che tutte le sue malcelate ambizioni sul trono di milano dovevano essere immediatamente ritirate perché dietro gian galeazzo sforza non c'era più solo il potente ma quel punto lì per via dinastica c'erano anche gli aragonesi di napoli per cui ludovico il moro si trova spiazzato scalzare gian galeazzo sforza significava entrare in rotta di collisione con i napoletani per cui cosa fa si rivolge a qualcuno che aveva le spalle più larghe di lui cioè che aveva un certo peso politico e militare ovvero al re di francia a carlo ottavo e stringe un'alleanza con carlo ottavo e tra l'altro tocca una corda particolare per convincere carlo ottavo a spalleggiare le ambizioni di ludovico il moro cioè convince l'era di francia a scendere in italia o spinge affinché l'era di francia scendesse in italia si recasse a napoli per poter riottenere quel regno quello napoletano che in fin dei conti era francese perché fino a 50 anni prima 40 anni prima ripeto nel sud italia c'erano gli angioini che erano francesi gli spagnoli ovvero gli aragonesi giunsero nel 1442 e questo fatto a parigi non l'avevano mai proprio digerito del tutto e ludovico il moro che non era affatto stupido seppe quale tasto toccare cioè pur di poter essere spalleggiato a milano per la presa del potere a milano avrebbe come dire facilitato la discesa di carlo ottavo pre di francia in italia affinché potesse riprendersi ciò che in qualche modo poteva essere considerato suo e cioè il regno di napoli dal tempo degli angioini inutile dire che anche tutto questo come dire questa impalcatura politica diplomatica queste tensioni non facevano che gettare ulteriore benzina sul fuoco infatti prima o poi la situazione sarebbe esplosa ecco anticipo il povero gian galeazzo sforza e morirà molto presto forse sembra avvelenato e forse le male lingue dissero fin dal tempo che fosse stato avvelenato dal potente zio ludovico il moro però per 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 la precisione non lo sapremo mai ludovico il moro oltre ad avere queste ambizioni sul ducato di milano anche lui è giusto citarlo fu un grande mecenate a sua volta colui che riuscì a raccogliere a milano una corte rinascimentale sfarzuosa e straordinaria e invidia anche qui dell'intera europa non per niente il rinascimento fu un'epoca in cui la cultura italiana o dei paesi italici e venne ammirata imitato ovunque l'italia da un punto di vista culturale era il numero uno paese numero uno invidiato ammirato da tutti con alcuni centri propulsori più attivi di altri roma firenze milano venezia queste città e una serie di altre queste città erano città dalle corti assolutamente straordinarie e invidiate da tutti ludovico il moro raccoglie attorno a sé una corte rinascimentale in cui saranno chiamati a partecipare i maggiori artisti del tempo un nome su tutti leonardo da vinci che lavorò un po ovunque a un certo punto lavorò anche sotto per commissione diciamo di ludovico il moro leonardo da vinci che giusto per citare un'opera realizzò l'ultima cena proprio sotto il regno di ludovico si trova al nel refettorio del convegno del santuario di santa maria delle grazie a milano un'opera celeberrima rappresenta il momento in cui cristo annuncia nell'ultima cena che qualcuno lo avrebbe tradito e vedete lo sgomento degli apostoli che si domandano ma sarò io non sarò io cosa starà dicendo questo qui è giuda proprio colui che lo tradirà colui che non a caso vedete nella mano destra tiene la cassa come dicono i vangeli notate la prospettiva del della fresco tipicamente rinascimentale e notate che i punti di fuga se proseguite con i punti di fuga della prospettiva finiscono proprio sulla testa di cristo ad esaltarne la centralità cristo che poi vedete assume la forma di una piramide eccola qui tipico simbolo trinitario dio che è uno e trino spesso raffigurato con un triangolo equilatero perché le tre persone all'interno della trinità sono uguali trinità che emerge anche in altri particolari vedete che gli apostoli sono raggruppati di tre in tre vedete ci sono quattro gruppi di tre apostoli trinità che emerge anche nelle finestre retrostanti vedete tre finestre da cui entra la luce spesso le tre finestre sono indice della trinità e non a caso il la testa di cristo si staglia proprio sulla seconda finestra cristo infatti è seconda persona della trinità va bene ma a parte questo volevo dire semplicemente che sotto ludovico il moro e anche milano e la lombardia in genere conobbe il suo momento di gloria perché fu una delle corti rianascimentali ripeto più sfarzose del periodo un altro elemento di tensione era venezia venezia era stata più o meno sconfitta durante la guerra di ferrara riuscì ad ottenere solo rovigo e il polesine ma non ce l'hava affatto le sue mire espansionistiche nel centro italia e pertanto si era sempre sul chi va là politicamente e diplomaticamente nei confronti di venezia ma un ultimo fattore di grande instabilità era a questo punto carlo ottavo il re di francia la francia era da poco uscito dalla guerra dei 50 anni dei dei cento anni scusate 1453 e aveva risolto alcuni problemi interni che si erano trascinati oltre quella data ma a quel punto poteva finalmente concentrare tutte le proprie risorse economiche militari politiche per guardare altrove e cioè per provare ad espandersi o a come dire prendere possesso di territori particolarmente proficui sotto l'aspetto economico e culturale quando a carlo ottavo venne inoltrata la richiesta da parte di ludovico il moro di scendere in italia per prendere possesso dal regno di napoli a carlo ottavo non doveva sembrare vero anche perché una serie di contingenze lo spingevano a quell'impresa perché non solo ludovico il moro invitava a scendere in italia carlo ottavo purché carlo ottavo ovviamente lo appoggiasse nella sua presa di potere al trono sforzesco ma anche venezia era pronta a scendere a patti con carlo ottavo perché in cambio della neutralità di venezia cioè in cambio del fatto che venezia avesse concesso a carlo ottavo di attraversare l'italia per dirigersi a napoli senza intervenire militarmente venezia avrebbe ottenuto alcuni possedimenti in lombardia cremona ed intorni ma anche i baroni napoletani quelli che si erano ribellati nella rivolta dei baroni dell'85 chiedevano a gran voce di carlo ottavo di scendere a napoli e di reistituire la monarchia angioina per cui da più parti carlo ottavo era invitato se non addirittura pressato per intervenire in italia l'italia d'altronde in quel momento era il paese più ricco d'europa da un punto di vista economico sicuramente ma anche da un punto di vista culturale era il grande periodo del rinascimento stava proprio fiorendo in questo momento per cui era la gallina dalle uova d'oro e carlo ottavo aveva un'occasione irripetibile per poter scendere in italia prendere il regno di napoli e a quel punto lì evidentemente imporre la propria egemonia su gran parte della penisola perché il grande desiderio di carlo ottavo era potendo imporsi in italia quello di rendere la francia un grande stato marinaro che potesse competere pensate un po chi erano i termini di paragone per la grande francia che potesse competere con venezia e con genova ecco il rango marinaro cui ambiva carlo ottavo occupando l'italia era poter competere con venezia e con genova oltre che espandere il proprio territorio naturalmente un suo obiettivo espresso era quello una volta conquistato napoli e come dire allestita una grande flotta di organizzare un'altra crociata un'altra crociata progetto che poi falli sul nascere perché vedremo come andremo come come andranno a finire le cose ma in sostanza carlo ottavo voleva sostituire la monarchia francese all'imperatore germanico cioè il ruolo che aveva sempre assunto il ruolo l'imperatore germanico imperatore del sacro romano impero protettore dell'italia organizzatore di crociate eccetera quel ruolo era ambito da carlo ottavo che effettivamente in quel momento era ben più potente dell'imperatore tedesco per cui tutto all'orizzonte sembrava allinearsi nel modo giusto carlo ottavo non doveva fare altro che accettare l'invito che da più parti gli facevano provenire scendere in italia e prendere ciò che secondo lui gli spettava il regno di napoli detto fatto nel settembre del 1494 carlo ottavo allestisce un esercito enorme potentissimo e comincia la sua calata in italia esercito di carlo ottavo era uno dei più potenti in europa in quel momento forse anche al mondo fatta eccezione per quello ottomano che quel momento lì era straordinariamente potente carlo ottavo riesce ad allestire un esercito di 30.000 uomini soprattutto mercenari c'erano molti svizzeri gli svizzeri erano dei soldati temutissimi anche molto spietati in genere non facevano prigionieri ma soprattutto l'esercito di carlo ottavo poteva disporre di una artiglieria all'avanguardia la migliore artiglieria detenuta da un esercito europeo in quel momento e cioè 140 cannoni di bronzo trainati da cavalli con questo esercito tecnologicamente avanzato per così dire nel settembre del del 94 comincia la sua discesa in italia vedete il percorso sulla cartina si reca innanzitutto a milano ecco a milano ludovico il moro lo accoglie ovviamente con tutti gli onori è lui che lo aveva invitato a scendere in italia è ludovico il moro che fa la parte del leone da un punto di vista politico anche perché il povero giangaleazzo sforza era seriamente malato e infatti morirà di lì a poco forse avvelenato da ludovico forse no non si sa ma di fatto politicamente chi gestiva il potere in quel momento milano era ludovico che appunto apre le porte all'alleato francese prosegue carlo ottavo e si dirige verso la toscana seguiamo qui il percorso e giunge fino alla cittadina fortificata di fivazzano ecco quello fu un episodio molto importante perché in quel momento carlo ottavo poté fare sfoggio reale e cioè concreto pratico della propria artiglieria a fivazzano le truppe toscane si asserragliarono dietro le mura pensando di essere al sicuro invece la moderna artiglieria dei francesi aprì delle grossissime brecce nella cortina muraria fino a provocare la caduta della città e la resa dei dei toscani l'artiglieria francese era devastante perché perché era possedeva ripeto 140 pezzi che sparavano palle di ferro non più di pietra palle di ferro avevano un'efficacia molto maggiore sparavano con una cadenza di fuoco molto molto ravvicinata per cui c'era poco tempo per poter ramberciare le mura come invece accade a costantinopoli per dire e poi erano cannoni che potevano essere trainati da cavalli dei dei cavalli significa che potevano spostarsi sul campo di battaglia con estrema velocità ed essere piazzati al momento giusto nel luogo giusto dove più c'era bisogno questo nuovo modo di fare la guerra e sconquassò completamente la politica militare vigente fino a quel momento perché in quel momento in italia ci si rese conto che i tempi erano cambiati che le vecchie cortine medievali le vecchie mura medievali alte strette perpendicolari al suolo non servivano più a nulla fondamentalmente perché con una moderna artiglieria bastava poco per sbriciolarle infatti apriamo una piccola parentesi possiamo notare in maniera molto molto sintetica qual è stata l'evoluzione delle cinte murarie delle città in Europa ma non solo quelle cinte murarie che vediamo ancora oggi quando usciamo di casa questa cinta muraria che vedete risale addirittura al quinto secolo avanti cristo ok sono le lunga mura di atene e vi fate fare anche su impulso di temistocle vedete come come erano strutturate era un semplice muro rinforzato piuttosto spesso alla base ma un semplice muro perpendicolare al terreno la sua evoluzione poi mostra alcune feritoie però nulla di che in epoca romana e poi nel medioevo le cortine cambiano ancora una volta rimangono sempre strette alte però cominciano ad apparire delle torri che potevano essere o circolari oppure quadrangolari d'accordo e qui sotto vedete infatti le mura di verona queste qui siamo vicino a piazza brale mura e zeliniane siamo nel tredicesimo secolo mura tipicamente medievali vedete pietra mattoni e una cortina stretta e alta con con la merlatura a coda di rondine queste mura qui proprio queste mura furono le mura che con la comparsa dell'artiglieria cominciarono a non servire più a nulla furono le mura che l'artiglieria francese cominciò a sbriciolare in toscana e infatti quale fu l'evoluzione di questa tipologia di mura furono evidentemente i terrapieni cioè di fronte all'artiglieria l'unico modo che rimaneva per mettere al sicuro le città era costruire sì delle mura ma non strette alte perpendicolari al terreno ma delle mura che fossero come dire che che poggiassero su dei terrapieni e ancora a verona ne abbiamo un esempio qui siamo sul sui bastioni questo bastione santo spirito questa mura qui non c'entra nulla perché è un muro austriaco che verrà eretto molto dopo però vedete questo frammento di cinta muraria questo qui è un frammento veneziano che poggia esattamente su un terrapieno siamo nel sedicesimo secolo e il terrapieno è questo qui vedete che dopo prosegue dietro nella foto non si vede per cui l'evoluzione delle cinte murarie fu questo a creare dei terrapieni eccoli qua d'accordo e avvolti da delle mura in modo tale che la palla di cannone per quanto potesse essere potente e scalfire le mura al massimo cosa avrebbe fatto avrebbe si trafitto le mura ma poi si sarebbe insabbiata per così dire nel terrapieno retrostante e le mura avrebbero retto notate che la base del terrapieno è molto larga ed era fondamentale questo perché le palle di cannone non avrebbero potuto produrre il collasso su se stesse delle mura appunto in virtù della larghezza della base per una parentesi per dire che cosa che in questo momento c'è un grande cambiamento militare strategico e l'artiglieria produce il crollo delle mura medievali e quindi obbliga ad un ripensamento delle strutture difensive militari nelle nostre città possiamo vedere gran parte delle tipologie di queste mura basta avere l'occhio un po clinico ripeto a Verona abbiamo sia le mura medievali strette e alte sia le mura rinascimentali chiamiamole così quelle del XVI secolo per esempio queste qui sconfitti Toscania Fivazzano il successore di Lorenzo il Magnifico successore piuttosto inetto Piero dei Medici decide di arrendersi senza tentare ulteriormente la sorte per cui anche Firenze apre le porte all'esercito di Carlo VIII in questo ovviamente fa una figura piuttosto meschina e gli consente di procedere verso il regno di Napoli Carlo VIII procede la sua marcia trionfale vedete ancora una volta vince un paio di battaglie a Monte Fortino e a Monte San Giovanni e in cui ancora una volta l'artiglieria gioca un ruolo fondamentale specialmente a Monte San Giovanni anche lì l'artiglieria apre delle brecce enormi e obbliga gli assediati ad arrendersi fino a quando Carlo VIII siamo nel febbraio del 95 quindi non ci mise molto facendo i calcoli giunge a Napoli e a Napoli il re Ragonese decide di scappare in Sicilia e la folla la popolazione di Napoli scende nelle strade esulta a favore di Carlo VIII era il ritorno del francese che in quel momento per diverse persone era auspicabile e si registrarono anche diversi episodi di caccia all'ebreo ebrei che erano dei protettori dell'Aragonese del re Aragonese quindi dei nemici politici ecco il re Aragonese Ferdinando II ripeto deve fuggire in Sicilia la discesa di Carlo VIII in Italia oltre alla morte e alla distruzione che porta con sé qualsiasi esercito evidentemente però comportò la comparsa anche di un altro flagello l'esercito di Carlo VIII portò con sé in Italia la sifilide la sifilide era una malattia infettiva molto grave ce ne erano già diverse che circolavano in Europa non c'era bisogno anche di questa ulteriore malattia e pur tuttavia anche questa comparve oltre alla peste che ritornò in Europa nel 1348 il tifo lo scorbuto la lebbra e una serie di altre malattie anche la sifilide cominciò a sferzare l'Europa sembra che la sifilide si è giunta in Europa dall'America l'America era stata scoperta da poco da Cristoforo Colombo nel 1492 sembra anche se non tutti sono certi che questa sia la provenienza che in America mentre da un lato gli europei hanno esportato i morbi tipici della loro società e quindi per esempio il morbillo per dirne uno dall'altro lato gli europei abbiano invece contratto il morbo della sifilide questo morbo si sarebbe sintetizzato in virtù del rapporto sessuale tra razze diverse quella europea e quella americana da questo incrocio è una teoria si sarebbe sintetizzato questo nuovo morbo di fatto quando Cristoforo Colombo tornò dal suo primo viaggio ne farà quattro avanti e indietro dall'Europa all'America già alcuni suoi marinai presentavano i sintomi tipici della sifilide e cioè presentavano vesciche, pustole, buboni, ulcere soprattutto nella zona genitale sui genitali o sugli inguini la sifilide infatti colpiva soprattutto gli organi genitali sia femminili che maschili e poi si diffondeva un po' in tutto il corpo con queste pustole, con queste vesciche che facevano molto male, che andavano ad intaccare poi ad un certo punto il sistema nervoso che portavano poi alla lunga, alla paralisi, alla demenza addirittura e poi anche alla morte come potete vedere da queste slide la sifilide che inizialmente si diffuse in Spagna sembra sia stata trasmessa dall'esercito spagnolo a quello francese proprio mentre i francesi stavano organizzandosi per scendere in Italia e poi la Francia soprattutto grazie alla sua posizione geografica che è un po' al centro dell'Europa e al centro di molte vie di comunicazioni dalla Francia vedete la sifilide si diffuse un po' in tutta Europa tanto che la sifilide assunse nomi molto diversi la cosa fa un po' ridere ve li ho elencati qua vedete gli spagnoli la chiamavano Mal de Ispaniola Ispaniola era l'isola appunto chiamata Ispaniola Caraibica scoperta dagli spagnoli sarebbe l'attuale Haiti cioè gli spagnoli dicevano la sifilide proviene da Ispaniola dall'isola Caraibica in Europa spesso lo si chiamava invece Morbo Ispano cioè il morbo che è stato importato e poi trasmesso dagli spagnoli ma poi quando gli spagnoli lo trasmisero ai francesi vedete e furono a quel punto lì i francesi gli untori che contagiavano tutti gli altri il morbo venne spesso chiamato Mal Franzese specialmente in Italia perché in Italia saranno i francesi a portarlo ma siccome i francesi di Carlo VIII giunsero a Napoli abbiamo appena visto nel febbraio del 95 i francesi lo diffonderanno a Napoli quel morbo per cui verrà chiamato a un certo punto Mal de Naples non so come pronunciarlo sinceramente Mal di Napoli ok ma non è finita perché poi anche i tedeschi a un certo punto contrarranno il morbo perché dalla Francia piano piano si diffonde anche nel Sacro Romano Impero per cui i polacchi che stavano più a est dei tedeschi quando sentivano parlare della sifilide la chiamavano Mal dei tedeschi perché erano stati tedeschi a quel punto a trasmetterlo ai polacchi ma i russi che stavano più a est dei polacchi lo chiamavano Mal dei Polacchi perché erano i polacchi che a quel punto lì avendolo ricevuto dai tedeschi lo trasmissero a loro volta dai russi ma e qua a un certo punto ci finiamo finiamo perché per fortuna il pianeta Terra è tondo non si può andare all'infinito il mondo arabo musulmano lo chiamò Mal dei Cristiani perché ad un certo punto la sifilide giunse anche nel mondo arabo per cui gli arabi non è che si facevano differenza ma non più di tanto ma il dei Cristiani insomma che proviene dalla Cristianità dall'Europa ecco questo per dire che al di là dell'ironia per cui ciascuno attribuiva all'altro come dire la responsabilità del contagio questo morbo si diffuse un po' ovunque ecco era un morbo molto contagioso che si trasmetteva attraverso i rapporti sessuali e voi potreste dirvi beh ma come fece l'esercito spagnolo composto da uomini a trasmettere il morbo all'esercito francese altrettanto composto da uomini attraverso le prostitute pensate che l'esercito francese quando calò in Italia nel 94 con Carlo VIII era composto vi dicevo da 30.000 uomini più o meno ma era seguito da circa 8.000 prostitute perché spesso e volentieri i grandi eserciti erano seguiti da un grande numero di prostitute le quali così potevano come dire assicurarsi per diversi mesi un lavoro un lavoro sicuro per così dire e le quali c'è anche da dire evitavano spesso e volentieri alla popolazione locale di subire violenze soprattutto alle donne da parte degli eserciti i quali potevano diciamo così dedicare le proprie attenzioni alle prostitute e non invece alle povere donne e ragazze locali per cui non tutto il mal veniva per nuocere da questo stuolo di prostitute che seguiva quando seguiva gli eserciti però in questo caso le prostitute funsero da veicolo del morbo perché le prostitute poi contrassero al morbo da un esercito e lo trasmisero a quell'altro e così via motivo per cui nel rinascimento la sifilide era vista come una malattia non solo molto pericolosa ma una malattia scabrosa perché chi contraeva la sifilide era colui che si era abbandonato a comportamenti sessuali scorretti cioè l'apparizione dei sintomi della sifilide smascherava un qualche tipo di rapporto sessuale o adulterino oppure lascivo addirittura cioè di frequentazione delle prostitute per cui era una malattia che attirava su di sé anche la condanna morale della società e motivo per cui venne vista sempre con con grande con grande terrore il tasso di mortalità era inferiore rispetto a quello della peste la peste nera del 1348 fece molti più morti ma nonostante questo venne percepita dai contemporanei così possiamo dedurlo dalle cronache del tempo come altrettanto mortale cioè peste sifilide nell'immaginario comune non erano molto differenti la sifilide aveva l'aggravante di smascherare spesso e volentieri questi rapporti sessuali di dubbia moralità diciamo così comunque pensate che nell'arco di 30 anni la sifilide provocò circa 20 milioni di morti per cui non era uno scherzo la sifilide si moriva come non come la peste ma si moriva qualcuno scrisse che la sifilide fu un morbo propiziato da venere venere dea dell'amore dell'eros ma micidiale come marte dio della della guerra cioè proprio attraverso il piacere del rapporto sessuale si rischiava di sfociare nella morte quindi fu questa strana simbiosi tra eros e thanatos amore e morte per dirlo alla greca ci fermiamo ancora un po' sulla sifilide qui siamo a verona piazza dei signori notate sulla sinistra questa statua eccola qui è la statua di girolamo fracastoro è stato veronese insigne veronese è stato un letterato medico e professore di logica all'università di padova l'università di padova è una delle più antiche prestigiose che abbiamo in italia fiore all'occhiello della serenissima repubblica di venezia università di padova dove tra l'altro fracastoro conobbe divenne amico di un altro grande personaggio di questo periodo e cioè del canonico nicolò copernico polacco ma è venuto a studiare a padova e fu il teorico del sistema egliocentrico ecco i due divennero amici il veronese girolamo e il polacco copernico al di là di questo girolamo fracastoro è importante perché da medico e lui ci interessava anche di medicina scrisse un poema che nel 1530 pubblicato che si intitolava Sifilis Sive de Morbo Gallico cioè Sifilide ovvero il Morbo Gallico cioè il male dei francesi come veniva chiamato spesso in Italia o male di Napoli o male dei francesi era un poema questo componimento scritto era un poema quindi non un trattato scientifico secondo i nostri canoni un poema che trattava però di medicina a dire il vero in cui c'era un protagonista che era questo Sifilus Sifilus da cui il termine Sifilide perché Sifilus appunto era il personaggio principale del poema che metteva a tema il male dei francesi e in questo poema si parla perché è importante perché si parla per la prima volta della Sifilide o del male dei francesi in termini di microorganismi o comunque di un concetto simile al concetto di microorganismo cioè Fra Castoro si interaga sulla causa della Sifilide la causa non è più individuata nelle esalazioni malsane nei miasmi di di vecchia memoria era già Galeno che parlava della peste come malattia miasmatica ma la individua invece in questa sorta di microorganismi questi seminaria come li chiamava lui e pertanto comincia ad incanalare la ricerca scientifica verso i giusti binari anche se poi ci verranno dei secoli per debellare le malattie infettive e in questo suo poema Fra Castoro suggeriva due rimedi per poter debellare la Sifilide e da questi rimedi capiamo che di strada la medicina doveva farne ancora parecchia e cioè utilizzare o il cosiddetto vivo argento e cioè il mercurio spalmare il mercurio sulla pelle perché il mercurio avrebbe avuto questi questi piccoli corpuscoli questa sorta di atomi che come dei microproiettili avrebbero attaccato la malattia e l'avrebbero distrutta l'avrebbero fatta sfumare addirittura come diceva Fra Castoro oppure un altro metodo era utilizzare un unguento particolare a base di guaiaco eccolo qui il guaiaco era una pianta americana che se fatta se fatta bollire cioè decotta rilasciava una sostanza che veniva spalmata sulla pelle e che produceva un'elevata sudorazione facendo sudare e trasudare la pelle affermava Fra Castoro si poteva anche purificarne il sostrato e quindi ripulire l'organismo dei morbi della sifilide da notare che questa pianta il guaiaco era una pianta amerinda proveniva dall'America e questo particolare non è secondario perché al tempo si credeva che l'antidoto di una medicina scusate l'antidoto di una malattia volevo dire proviene dalle zone di provenienza della malattia stessa cioè il luogo che produce una malattia produce anche il suo antidoto e visto che la malattia si pensava provenire dall'America per i motivi che ho detto si pensava che questa pianta il guaiaco fosse dotata di queste proprietà taumaturgiche in qualche modo ecco sulla reale efficacia di questi metodi evidentemente l'efficacia era molto scarsa al massimo potevano essere dei palliativi quello sì ma non potevano risolvere strutturalmente alla radice e debellare il morbo della sifilide piccola curiosità sapete forse che questa statua piazza dei signori a Verona di Fracastoro porta in mano una una sfera vedete che sarebbe il mondo a indicare la mentalità enciclopedica di Fracastoro i veronesi con la loro ben nota ironia l'hanno ribattezzata la bala di Fracastoro affermando che quella bala cadrà appena sotto la statua di Fracastoro passerà un veronese onesto e siccome la bala di Fracastoro è ancora salda nella mano destra del nostro scienziato si vede che di veronesi onesti ce ne sono molto pochi ovviamente è folclore popolare importante a proposito sempre della Sifilide e poi tra poco chiudiamo la parentesi Sifilide è anche uno scienziato un erudito veneziano Tommaso Rangone era un erudito nasce a Ravenna poi si trasferisce a Venezia esperto di astrologia di medicina notate che spesso medicina e astrologia erano legate insieme conosceva moltissime lingue era un po' anche uno spaccone un altezzoso affermava che una delle sette meraviglie del mondo fosse la sua biblioteca era uno a cui piaceva apparire era uno che in tutti i modi voleva lasciare memoria di sé facendosi raffigurare o rappresentare in dipinti o anche addirittura in statue ci provò diverse volte a Venezia e alla fine ci riuscì riuscì a farsi fare una statua in questa chiesa di San Zulian l'architetto della chiesa era niente un po' di meno che Jacopo Sansovino il buon Tommaso Rangone finanziò il restauro dei lavori e decise quindi e ottenne di conseguenza per così dire il diritto a farsi rappresentare nella propria veste di uomo dotto ed erudito sulla facciata e lo vedete qui ok chiesa di San Zulian che vedete si trova proprio a un tiro di schioppo dalla basilica di San Marco se capitate da quelle parti fermatevi un secondo ad ammirarne la facciata ecco questo è il nostro Rangone vedete c'è l'arca in cui sono deposte le sue spoglie la sua statua vestita con toga professorale a indicare l'enorme sapienza del nostro Rangone e vedete da cos'è circondato da due sfere a noi ne interessa una in particolare questa qui vedete con una mano la mano destra tiene in mano una piantina che è il nostro guaiaco e nella sfera retrostante è il globo terrestre vedete proprio il mar atlantico che divide l'Europa dall'America a indicare la terra di provenienza della sifilide ma soprattutto in questo caso del suo antidoto del guaiaco Tommaso Rangone grande erudito anche egli fu un personaggio che approfondì molto la questione e ci ha lasciato moltissime pagine in cui ha indagato sulla sifilide ritenendolo uno strumento efficace per debellare la malattia sarà efficace solo fino a un certo punto ma egli lo riteneva quasi miracoloso si rese conto però come tutti i renascimentali che andavano a scavare nel passato che quel guaiaco o legno santo come lo chiamava Rangone era forse probabilmente già conosciuto dagli antichi medici arabi soprattutto da Avicenna cosa piuttosto curiosa perché evidentemente al tempo l'America non era ancora stata scoperta comunque tant'è torniamo a Napoli Carlo VIII intraprende questa grande marcia giunge a Napoli sconfigge diversi avversari porta con sé il morbo della sifilide e giunto a Napoli può giustamente godere i frutti della sua impresa certo che qualcuno rimase a dir poco stravolto dalla facilità dall'estrema facilità con cui Carlo VIII riuscì a raggiungere la capitale partenopea tutti gli stati italiani erano terrorizzati perché in pochi mesi Carlo VIII aveva fatto il bello e il brutto tempo quello che voleva in Italia e questo smascherava l'estrema debolezza degli stati italiani stessi i quali se non si coalizzavano erano singolarmente estremamente vulnerabili infatti vedete cosa disse Machiavelli sempre molto tagliente nelle sue critiche disse di Carlo VIII che gli fu lecito pigliare l'Italia col gesso cioè cosa intendeva dire Machiavelli che a Carlo VIII era una metafora ma molto esemplificativa bastava segnare col gesso le case nelle quali voleva alloggiare per prendersene come quando voleva cioè la calata di Carlo VIII fu una sorta di grand tour turistico tanto debole fu la resistenza degli stati italiani e in effetti gli stati italiani godevano di un primato indiscusso da un punto di vista culturale il rinascimento è una perla che nasce in Italia invidiata da tutti ma da un punto di vista politico e militare erano estremamente deboli da un lato perché c'è da dire ad onore degli stati italiani dei papi di Roma degli Sforza a Milano dei doji veneziani e quant'altro a Firenze a loro onore c'è da dire che molti soldi vennero investiti non per fondere cannoni o per arruolare eserciti ma per abbellire le proprie città quindi vennero investiti nell'arte e questo sicuramente è estremamente positivo dall'altro lato però è chiaro che se il proprio vicino di casa cioè la Francia andava armandosi non solo armandosi ma andava costituendo un esercito enorme e quella minaccia in qualche modo doveva essere controbilanciata da equipaggiamenti militari quantomeno speculari ed opposti per così dire la grossa differenza fu che la Francia terminata la guerra dei cento anni poteva costituirsi in un unico grande stato nazionale per cui poteva concentrare le risorse che provenivano da un territorio molto vasto risorse militari ed economiche che provenivano da decine e decine di città viceversa gli stati italiani erano divisi erano piccoli per cui avevano sì grandi capitali ma non così tanti per poter formare un esercito potente come quello francese questo fatto è molto interessante perché cosa significa che quando il proprio vicino aumenta la propria potenza gli stati confinanti o fanno altrettanto o sono destinati a soccondere e per fare altrettanto se gli stati confinanti sono piccoli sono obbligati sotto la minaccia della pressione esterna ad amalgamarsi tra di loro o affondersi tra di loro oppure essere assorbiti nel vicino di casa più grande più aggressivo e più potente notate che nella Francia di Carlo VIII si instaura un circolo virtuoso un unico grande stato nazionale che riesce a concentrare le risorse per allestire un esercito e quindi produrre una grande artiglieria con la quale artiglieria polverizzare le mura medievali di tanti signori conti e nobili che tradizionalmente si opponevano all'accentramento del potere da parte del re di Francia per cui tanto maggiore la potenza tanto più facilmente vengono scalzati i signori locali e le resistenze locali tanto maggiore torna ad essere l'accentramento economico politico nelle mani del re di Francia gli stati italiani da questo punto di vista erano rimasti molto indietro ancora divisi l'uno dall'altro straordinariamente floridi da un punto di vista culturale ma assai deboli da un punto di vista militare avrebbero dovuto invertire quella tendenza e quindi essere in grado di schierare un esercito forte potente e unitario oppure soccombere alle mire espansionistiche delle potenze straniere ciò che si verificherà sarà proprio questa seconda ipotesi cioè nel giro di 25 anni l'Italia che da secoli aveva resistito agli imperatori tedeschi che da secoli aveva reclamato le regalie i diritti con i comuni con le signorie eccetera nei primi decenni del 1500 l'Italia cade totalmente nelle mani nella sfera di influenza delle potenze straniere Francia e Spagna l'unica a mantenere totale autonomia fu ancora una volta la serenissima repubblica di Venezia una cattedrale nel deserto però gli altri stati dovranno crollare ora vi dicevo questa discesa di Carlo VIII sgomenta gli stati italiani si rendono tutti quanti conto che a quel punto lì la Francia poteva fare il bello e il brutto tempo e allora cosa fanno Venezia Milano in primis decidono di allearsi di ricostituire l'antica Lega Italica e di equalizzarsi contro Carlo VIII che a quel punto lì era diventato troppo potente per tutti quanti agli stati italiani Venezia Milano in testa si aggiungono anche la Spagna d'altronde gli aragonesi erano appena stati cacciati da Milano e gli aragonesi erano di origine spagnola e si aggiunge anche l'impero il sacro romano impero perché Milano era formalmente un ducato imperiale ed era evidentemente come dire plausibile che Carlo VIII dopo aver preso Napoli potesse prendere anche Milano per cui si realizza questa grande coalizione antifrancese Carlo VIII si rende conto di in pochissimi mesi si rende conto di essere in trappola perché la sua grande marcia verso sud significava anche il suo progressivo distanziamento dalla Francia proprio nel momento in cui tutti i suoi nemici europei andavano coalizzandosi per cui nell'estate del 95 decide di abbandonare Napoli di chiamare a raccolta il suo esercito e di tornare e di tornare lo vedete qui sulla slide piano piano verso nord verso la Francia prima che la morsa dei suoi nemici si chiudesse su di lui impedendogli di tornare in patria e gli eserciti della Lega si si preparano e aspettano Carlo VIII al varco cioè lo aspettano a Fornovo Carlo VIII risale d'Italia gli eserciti italiani lo aspettano a Fornovo per impedirgli di proseguire la marcia per bloccargli il passo fu una battaglia come dire molto molto importante su cui si discusse molto Carlo VIII aveva circa 15.000 uomini gli altri 15.000 erano disseminati in altre zone altri erano caduti durante il percorso la Lega aveva 30.000 quindi 30.000 per gli italici 15.000 italici che avevano ogni vantaggio dalla propria conoscevano molto meglio il territorio avevano avuto tutto il tempo per predisporre un agguato e le difese a Fornovo avevano dalla loro anche l'aspetto morale combattevano in casa combattevano in patria lo straniero era il francese era Carlo VIII ebbene nonostante tutti questi vantaggi che sulla carta come dire davano vincente la Lega Italica alla fine Carlo VIII riuscì ad aprirsi un varco a penetrare tra le fila nemiche e a tornare in Francia è vero che gli italici riuscirono ad ottenere un bottino enorme perché in termini di perché Carlo VIII si era portato a Napoli un po' tutto quanto quello che serviva alla corte lui era pur sempre il re in termini di vettovagliamento in termini militari anche in termini di danaro fu una vittoria per la Lega Italica ma rimane il fatto che 30.000 uomini non riuscirono a sbarrare il passo a 15.000 uomini e quindi fu un episodio che ancora una volta come dire sottolineò la debolezza militare degli stati italiani Carlo VIII e finiamo torna in Francia la penisola italica viene liberata dalla presenza francese ma sarà una vittoria di Pirro perché quella discesa di Carlo VIII è vero che si risolse con un nulla di fatto ma è anche vero e questo fu il dato più importante che smascherò definitivamente la fragilità politica e militare degli stati italiani e infatti Carlo VIII muore poco dopo nel 98 muore tra l'altro molto giovane non aveva neanche 30 anni gli succede morto un re se ne fa un altro no gli succede Luigi XII e la prima cosa che fa Luigi XII è riesumare il progetto espansionistico in Italia di Carlo VIII d'altronde gli italiani si erano mostrati estremamente deboli infatti cosa fa Luigi XII si accorda con Venezia quindi fa leva sulla divisione fra gli stati italiani si accorda con Venezia per poter occupare Milano i veneziani avrebbero attaccato Milano da est i francesi avrebbero attaccato Milano e la Lombardia da nord e si sarebbero divisi i territori conquistati cosa che avvenne puntualmente nel 1499 Luigi XII entra vittorioso a Milano quindi i francesi cominciano a stendere la loro mano e sfera di influenza sulla Lombardia Milano mentre i veneziani ottengono in cambio Cremona un altro piccolo lembo di territorio lombardo comincia così una serie infinita di lotte di guerre e di battaglie tra la Francia e la Spagna per il possesso di Milano il mezzogiorno il regno di Napoli torna saldamente nelle mani spagnole aragonesi e quindi spagnole e più precisamente spagnole il ducato di Milano invece per diversi anni rimane proprio in una sorta di terra di mezzo continuamente sobalzato da una parte dall'altra ora francese ora spagnolo ora francese ora spagnolo fino a quando non interverrà sulla scena Carlo V di cui parleremo prossimamente bene questo è un capitolo di storia un po' complesso mi rendo conto in sintesi cosa possiamo dire che con la morte di Lorenzo il Magnifico l'Italia cessa di essere cessa di poggiare su un equilibrio politico efficace e comincia a diventare terreno di conquista delle potenze straniere prima da parte dei francesi Carlo VIII ci prova ma non ci riesce Luigi XII invece ci riesce e poi terreno di contesa fra Spagna e Francia fino alla metà del 1500 quando si imporranno lo anticipo definitivamente gli spagnoli ma questo è un altro capitolo bene vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento grazie a tutti